Tempo di sfilate a Parigi con lo show di Alexander McQueen, che è stato uno degli appuntamenti più importanti della settimana della moda in corso. Sono volate a Parigi anche Kasha Smutnik con la figlia 18enne Sofitta Ricone. Prima volta le sfilate insieme per le due con la 43enne che ha sfoggiato un taier nero con pantaloni a sigarette e giacca avvitata indossata sulla pelle, il tutto abbinato a decolte nere. Tra gli accessori anche grandi orecchini d'oro. La figlia invece ha optato per un look più casual, per lei un crop top nero, giacca con volant grigia, jeans, pochette argentata e stivaletti con borchie.